E scontro aperto nel centro-sinistra ad Avellino serrano i ranghi i sette consiglieri che ruotano intorno al leader di mai più Luca Cipriano, che chiedono la composizione in tempi brevi ed immediati delle commissioni e impugnano la delibera degli equilibri di bilancio e l'approvazione del predistesto. Atti illegittimi secondo i sette consiglieri che rimarcano di rappresentare il vero centro-sinistra di Avellino. Dal canto suo si dice sereno invece il sindaco Gianluca Festa sulla procedura adottata. Per quanto ci riguarda abbiamo approvato un piano di riequilibrio che consente alla città di potersi rialzare. È un piano che intende scommettere su Avellino e sugli avellinesi. E alle accuse di Cipriano di troppa leggerezza e attenzione ad eventi e manifestazioni anziché alle questioni serie del palazzo, il sindaco Festa risponde. Magari è un po' troppo nervoso in questa fase e un po' troppo arrabbiato che partecipassse un po' di più alla vita cittadina. Abbiamo finalmente ridato una speranza e tanta gioia alla nostra comunità. Mi spiace che non sia arrivata questa felicità anche a lui, ma lo invito a fare un bel sorriso e a guardare con più speranza e prospettiva alla vita e a non perdersi dietro queste polemiche che credo non lo porterebbero lontano.